In Liguria aumentano i casi di aggressione al personale sanitario da parte di pazienti e dei loro familiari. Si tratta per il 30% di attacchi di tipo fisico e per il 70% di violenze di tipo verbale. Maggiore integrazione tra ospedali e medici di famiglia per evitare ai pazienti di fare esami in più e lasciare più liberi gli ambulatori è una delle misure di ASL4 per ridurre l'elisse di attesa coinvolto il reparto di ortopedia protesica a Rapallo. Il Papa chiede di vincere la pazzia della guerra. Al termine dell'udienza generale Francesco ha invocato preghiere per quanti soffrono le conseguenze dei conflitti, inaugurato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alle virtù. Cinque giorni per fare le cose di sempre, ma insieme e donando una prospettiva nuova alle giornate nella preghiera. Oret labora la convivenza per giovani fra i 20 e 30 anni inizia l'8 aprile in seminario. A più di due anni dal primo caso continua a crescere il numero di casi di peste e suine in Liguria. Col di Retti chiede a un'azione per ridurre il numero di cinghiali, veicolo del virus e indenizza gli elevatori per l'impossibilità di ripristinare gli allevamenti di magliali. Parte il progetto Italia. I discendenti degli emigrati italiani potranno ricercare le proprie origini grazie al supporto di professionisti nella ricerca genealogica e a viaggi dedicati. Medici missionari in camera. L'esperienza di Francesca Pezzolo e Mauro Moretti raccontata in Missione Mondo. Il loro attuale impegno è combattere la diffusione di tubercolosi addominale nei bambini. Buonasera, bentrovati e bentrovate al Tg Telepace. Diventa allarmante il numero crescente di aggressioni al personale sanitario. La Liguria in particolare risulta la terza regione più interessata in Italia dal problema degli attacchi fisici e verbali verso medici e infermieri. Si stima che un operatore su tre sia stato coinvolto in episodi di violenze e che almeno l'80% dei lavoratori abbia subito un'aggressione nell'arco della propria vita lavorativa, di cui il 90% delle vittime è donna. Sentiamo. La sicurezza degli operatori sanitari è un'emergenza nazionale. Ogni anno infatti in Italia vengono denunciati circa 3.000 casi di minacce e aggressioni. La Liguria nello specifico risulta tra le regioni più colpite dopo Lombardia e Emilia-Romagna, registrando 331 casi di attacchi nei soli primi sei mesi del 2023. Da questi dati rimangono fuori coloro i quali fanno l'esercizio autonomo della professione, quindi liberi professionisti e chi lavora nel privato. Un operatore su tre è coinvolto in episodi di attacchi fisici o verbali. Si registra che almeno l'80% dei lavoratori ha subito un'aggressione nell'arco della propria vita lavorativa e che il 90% delle vittime sia donna. Datti allarmanti che rendono comprensibile il fatto che il 45% del personale intervistato stia pensando di lasciare la professione. Ciò andrebbe naturalmente ad aggravare la già preoccupante carenza di personale. Le professioniste donne, un po' perché sono la maggioranza e un po' anche perché c'è ancora una cultura da modificare, perché quello della violenza è un'abitudine che si sta diffondendo, ahimè, in maniera preoccupante. Sono circa al 70% le aggressioni di tipo verbale contro un 30% di tipo fisico. Nell'anno 2023 si aggiunge poi una nuova forma di violenza, quella rivolta ai beni personali, che coinvolge circa il 15% del personale sanitario. Confidiamo che le istituende riforme di sanità territoriale vengono attivate al più presto perché queste strutture faranno da filtro per gli accessi impropri in pronto soccorso. Si stima che il 44% degli infermieri nell'arco del 2023 abbia ricevuto tra le 8 e le 10 aggressioni fisiche o verbali. Tali attacchi non provengono solo dai pazienti ma anche e soprattutto dai loro familiari. Mettiamo in conto a volte che siamo a rischio di aggressioni e le consideriamo tra virgolette fisiologiche. Si rivelano dunque necessarie e imminenti soluzioni strutturali su tutto il territorio per garantire la sicurezza dei lavoratori del servizio sanitario, personale che merita un grande rispetto per il lavoro fondamentale che offre al cittadino mettendo a disposizione la propria competenza e professionalità nonostante i carichi sempre più estenuanti di lavoro, i limiti strutturali e la già citata carenza di personale. Migliorare l'integrazione tra medicina territoriale e medicina ospedaliera. È uno degli obiettivi su cui sta puntando la ASL4 per razionalizzare il servizio e dare un'assistenza migliore ai pazienti. Ed è stato anche l'argomento di un incontro che si è svolto sabato scorso all'ospedale di Rapallo tra medici di medicina generale e operatori sanitari ospedalieri. Tra gli ambiti in cui portare avanti questo progetto c'è quello dell'ortepedia protesica. Sentiamo. Evitare ai pazienti di fare visite o esami in più e quindi lasciare anche più liberi gli ambulatori dove spesso le liste di attesa sono molto lunghe. Secondo ASL4 questi possono essere alcuni dei benefici che siano lavorando ad una maggiore integrazione tra la medicina territoriale e la medicina ospedaliera. Quindi parliamo dei medici di medicina generale, quelli che hanno una conoscenza diretta dei pazienti e della loro storia clinica e di quei professionisti che devono invece intervenire su situazioni particolari e spesso più complesse. Uno degli ambiti ospedalieri in cui c'è bisogno di questa collaborazione diretta è quello della chirurgia protesica che per ASL4 si trova all'ospedale di Rapallo. Per condividere percorsi così che il paziente possa arrivare in ospedale già pronto con gli esami di cui abbiamo bisogno per andare all'intervento e questo permette di velocizzare poi i tempi. Altro aspetto che ASL4 ci tiene a sottolineare è che non sia necessario spostarsi verso ospedali più centrali per avere cure di livello. Il primo motivo è che in generale il settore della chirurgia protesica ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni garantendo ottimi standard anche negli ospedali più delocalizzati. Negli ultimi cinque anni ho vissuto e lavorato a Londra e devo dire che non esiste alcuna differenza da come viene fatta una protesi in Italia, a Rapallo o in Inghilterra. Il secondo è che dall'anno scorso l'ASL4 fa parte del Dipartimento Interaziendale Metropolitano di Ortopedia che coinvolge anche due ortopedie dell'ospedale Galliera di Genova. Un modello che nei piani di Regione Liguria dovrebbe aumentare il numero di prestazioni e limitare le cosiddette fughe per farsi curare fuori regione. Per cui abbiamo i chirurghi del Galliera che vengono a operare qui nella struttura e sono loro che hanno lanciato con il dottor Mazzola per primo l'idea di avere un centro di chirurgia protesica qui. Parliamo di lavoro adesso. Nel 2023 è cresciuto il numero di persone occupate in Liguria. sono 16.902 in più rispetto all'anno precedente, in percentuale un aumento del 2,7%, superiore alla media nazionale di più 2,1%. Si è registrato anche un calo dei cosiddetti NIT, ossia i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in corsi di formazione, che sono 6.862 in meno, un calo del 23,3%. In aumento gli occupati a tempo indeterminato, più 2,4% rispetto all'anno precedente, pari a 9.602 unità, mentre diminuiscono gli occupati a termine, meno 4,2%, pari a 3.166 unità in meno. L'unica fascia di età in cui non c'è stato un aumento dell'occupazione è quella dai 35 ai 49 anni, meno 3% rispetto al 2022. Dati positivi, questi di Istat secondo Regione Liguria, anche i sindacati sottolineano la bontà dei numeri sull'occupazione dell'anno appena concluso, ma volgono l'attenzione anche su alcuni aspetti da migliorare. In particolare, Will Liguria chiede il rinnovo dei contratti nazionali, con adeguamenti degli stipendi, in linea con il costo della vita nel 2024. Liguria invece mette in guardia sulla crescita dei lavoratori autonomi, perché a volte, dietro l'apparente situazione di lavoro autonomo, si nascondono forme ibride o addirittura illegale di rapporti di lavoro. Infine, la Cigiale Liguria segnala come quasi tutti i nuovi assunti siano nel settore dei servizi il 78%. Voltiamo pagina. Al termine dell'udienza generale, in piazza San Pietro, il Papa ha chiesto ancora una volta di pregare per quanti soffrono le conseguenze dei conflitti. La Catechesi di questa mattina ha aperto un nuovo ciclo dedicato alle virtù. Sentiamo. Oggi mi hanno portato un rosario e un vangelo di un giovane soldato morto nel frante. Lui pregava con quello. Poche parole pronunciate con la voce resa precaria dal raffreddore. Papa Francesco ha espresso questa speranza al termine dell'udienza generale nel giorno dell'undicesimo anniversario del suo pontificato. Come già nelle scorse udienze, Francesco non è riuscito a leggere la Catechesi affidandone la lettura a padre Pierluigi Giroli, ma ha voluto comunque pronunciare i saluti in lingua italiana in cui ha rinnovato ancora una volta l'invito a pregare per le popolazioni piegate dai conflitti. Tanti giovani, tanti giovani vanno a morire. Preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra che sempre è una sconfitta. Dopo il ciclo dedicato ai vizi, la Catechesi di oggi ha aperto una nuova serie di Catechesi dedicate alle virtù, frutto di una lunga germinazione che necessita fatica, ma anche meravigliosa possibilità che per la filosofia antica evidenziava fortezza e coraggio, ascesi e disciplina, ma anche eccellenza che suscita ammirazione, fedeltà alla propria vocazione e piena realizzazione di sé. Saremmo fuori strada se pensassimo che i Santi siamo delle eccezioni dell'umanità, una sorta di ristretta cerchia di campioni che vivono al di là dei limiti della nostra specie. I Santi, in questa prospettiva, che abbiamo appena introdotto riguardo alle virtù, sono invece coloro che diventano pienamente sé stessi, che realizzano la vocazione propria di ogni uomo. Un mondo dove giustizia, rispetto, larghezza d'animo e speranza fossero la normalità e non un'anomalia sarebbe un mondo perfetto. In un mondo deformato, invece, dobbiamo fare memoria della forma con cui siamo stati plasmati e l'invito contenuto nella Catechesi. La virtù non si improvvisa, non è un atto buono sporadico, ma un bene che nasce dalla maturazione, un habitus della libertà che si conquista con la grazia di Dio, che cresce nella sapienza e nella saggezza che imparano dagli errori e si consolida nella buona volontà. Sono iniziati oggi gli esercizi spirituali per l'ambito pastorale di Chiava di Levi e Camposasco, questa mattina alle 7.15 nella Catedrale di Nostra Signora dell'Orta Chiava, dello spazio dedicato alla recita delle Lodi. Stasera alle 19, la prima meditazione proposta dal Vescovo Giampio De Vasini sul tema Cristo, mia speranza, è risorto. Gli esercizi proseguiranno anche nella serata di giovedì e venerdì. In tutti e tra i giorni Telepace riprenderà le Catechesi del Vescovo e le trasmetterà in differita alle 21.45 sul canale 85 e Telepace 2. Inizierà lunedì 8 aprile e terminerà venerdì 12, ora et labora, un tempo di convivenza per studenti universitari e giovani lavoratori in seminario a Chiavari. L'intento è quello di mettere insieme nel ritmo della settimana virtuale il lavoro e le occupazioni quotidiane con un tempo di preghiera più profonda che ne costituisca la trama. Sentiamo. Quando inizierà quest'anno il tempo di convivenza per studenti e studentesse universitari e lavoratori? Allora quest'anno faremo dall'8 al 12 aprile e come l'anno scorso proponiamo un tempo di convivenza, quindi un tempo in cui sicuramente vivere assieme, condividere il quotidiano e poi cercando di dare anche un po' di taglio e di attenzione sulla parte della preghiera, dello spirito. Come sono strutturate le giornate? Ognuno sicuramente ce l'avrà strutturate a suo modo, nel senso che continueranno le cose normali che uno fa, andare a lavoro, andare a scuola, all'università. In più sicuramente ci sarà un tempo più attento di preghiera al mattino, per come si potrà tra una colazione e l'altra e poi il tempo della sera. Si chiede di essere più disponibili magari alla sera ad esserci per magari affrontare alcuni temi. Sicuramente sempre partendo dal Vangelo provare a fare qualche riflessione insieme. Da dove è scaturita questa idea che già l'anno scorso avete sperimentato con successo, diciamo? Ma è scaturita dai ragazzi. Alcune ragazze in modo particolare sono venute anche a cercarci, noi come un po' più organizzatori, pensando che si potesse fare una cosa così. Allora poi piano piano l'abbiamo messa in concreto, l'abbiamo messa in atto. Riconosciamo il bisogno, il desiderio di stare insieme, proprio in modo conviviale, ma anche il desiderio di dare profondità e senso alla vita per cui lasciare dello spazio perché Dio, la preghiera, ne faccia parte. Quindi la vita di fede non è qualcosa di staccato dalla quotidianità, come dire, ritagli un tempo per il Signore. No, ecco, il desiderio è proprio dire sto con Lui. Gesù, quando era chiamato i primi discepoli, li chiama per stare con Lui, prima cosa. E questo non vuol dire che devono dividersi, da una parte c'è il lavoro e dall'altra c'è la preghiera. Stare con Lui è sempre, ecco, ricordarsi di Lui, rimanere accompagnati da Lui in quello che si fa. Sicuramente tanto genera tanti bei legami e amicizie tra loro anche ancora adesso, comunque dall'anno scorso ci si vede almeno una volta al mese tutti insieme per cui restano delle amicizie e dei legami belli. E poi ognuno naturalmente approfondisce il suo legame con Dio, la sua fede e di questo poi Dio vedrà. La diocesi di Savonanoli si prepara a celebrare la festa patronale di Nostra Signora di Misericordia. La novità principale di quest'anno sarà la vigilia. scelta dal Vescovo come data di conclusione del Sinodo Diocesano. Monsignor Gero Marino presiderà la Messa Solenne domenica 17 marzo alle 18 nel Santuario Mariano e la Basilica resterà aperta tutta la sera. Lunedì 18 marzo giorno della solennità la processione votiva che sarà aperta dal crucifisso della confraternita Santa Croce di Casanova di Varazze inizierà alle ore 7 con la preghiera nella catedrale Nostra Signora Assunta e si snoderà fino al Santuario. La Messa Solenne dalle ore 9.30 sul piazzale del Santuario sarà concelebrata dal Vescovo Marino e dagli emeriti di Savonanoli Vittorio Lupi e di Monreale Michele Pennisi e nel tempo di preparazione venerdì alle 17 sarà celebrata la Messa seguita dal Rosario animato dalle confraternite. Sabato il Rosario alle ore 16.30 alle 17 la Messa e alle 21 un concerto del complesso bandistico Antonio Forzano. Cambiamo argomento a più di due anni dal primo caso continua a crescere il numero di casi di peste suina africana rilevati tra Liguria e Piemonte. Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha nominato tre subcommissari che andranno a coadjuvare il lavoro del commissario straordinario per l'emergenza Vincenzo Caputo ma la fine dei contagi sembra lontana. Ne abbiamo parlato con Coldiretti Liguria. Un virus che non crea pericoli per gli esseri umani ma che ha creato molti problemi all'economia in primis agli allevatori suini ma anche a chi ha attività commerciali legati alle presenze nell'entroterra. Il primo caso di peste suina africana tra Piemonte e Liguria è stato rilevato il 27 novembre 2021 due anni e tre mesi dopo sono 1.357 in Liguria 730 totali rilevati in 51 comuni diversi più di un quinto quindi di tutti i comuni liguri. La peste suina uccide solamente i suini e i casi rilevati hanno riguardato solamente i cinghiali. Il fatto che sia però molto contagiosa rende necessario il depopolamento degli allevamenti di magliali. In parole povere gli allevatori devono abbattere i loro capi di bestiame anche se sani per evitare che il virus possa diffondersi. Questo è il problema principale dell'emergenza anche perché gli indennizi hanno riguardato solo gli animali abbattuti e non le perdite del non poter allevare nuovi suini. Non ci sono degli indennizi dovuti al fatto che come dicevo prima non c'è la possibilità di reinstallo ossia queste aziende non hanno la possibilità quindi di ripristinare i loro allevamenti di suini e quindi di sostanzialmente continuare la propria attività. in Liguria gli allevamenti di suini sono pochi circa una decina a quelli che fanno parte di col diretti ma il problema rimane. L'associazione chiede al governo di fare di più per ridurre il numero di cinghiali. che si attuino tutta una serie di misure volte al contenimento e alla riduzione sensibile di quella che è la popolazione degli ungulati nel nostro territorio perché riteniamo sostanzialmente che senza questo intervento la peste suina africana non possa che aumentare il proprio raggio e diffondersi ulteriormente anche nelle zone limitrofe. Recentemente il ministro della salute ha nominato tre subcommissari che andranno a coadiuvare il lavoro del commissario straordinario per l'emergenza Vincenzo Caputo una scelta che va nella direzione giusta secondo Coldiretti. Tra questi uno è anche un alto rappresentante dell'esercito e questo va forse nel senso che noi abbiamo sempre auspicato ossia in un intervento maggiore per andare a ridurre fortemente quello che è il numero dei cinghiali. Adesso un po' di notizie di viabilità la strada di Pagia-Carasco è nuovamente percorribile dopo che una frana aveva bloccato temporaneamente il passaggio. Il distacco era avvenuto domenica in conseguenza delle piogge cadute nel fine settimana che hanno compromesso la stabilità del versante. I detriti sono stati completamente rimossi ieri mattina e i mezzi sono tornati a percorrere la strada ma l'aria rimane comunque sotto osservazione. I terreni da cui è scesa la frana appartengono a privati e toccherà a loro occuparsi dei lavori di consolidamento. Le immagini che avete visto che state vedendo sono ancora di quando la frana era appena caduta. A San Colombano Certeno invece la strada di Manai-Vallefredda è stata liberata dalla frana che si era staccata ieri sera impedendo il transito di mezzi. Questa mattina sono stati rimossi i detriti della strada per riaprire la circolazione i mezzi continueranno a lavorare anche nel pomeriggio hanno continuato a lavorare anche nel pomeriggio per posizionare dei massi di fronte al versante e limitare il rischio di alti smottamenti nei prossimi giorni. E anche in questo caso la foto è della frana caduta e non della strada liberata. È stato ripristinato il doppio senso di marcia sull'Aurelio in località Mulineti-Arecco dove il maltempo aveva causato la caduta di un grosso albero tra sabato e domenica quello che vedete in foto la strada era stata riaperta a senso unico alternato durante la giornata di domenica e solo oggi è stato ripristinato appunto il doppio senso. A Chiavari proseguono i lavori di consolidamento della strada in via Permagena il comune comunica che lunedì 18 marzo all'altezza del civico 11 partirà il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza. Per questo motivo è prevista la chiusura della strada nei giorni 18, 19, 20 e 21 marzo sarà consentito il transito veicolare in alcune fasce orarie parliamo dell'ora fino alle 8.30 dalle 12.30 alle 14 e dopo le 17 garantito il passaggio sempre dei mezzi di soccorso. Nell'anno del turismo delle radici il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale vada al progetto Italia attraverso cui i discendenti degli emigrati italiani potranno compiere ricerche genealogiche e viaggi dedicate nelle terre di partenza. Un'opportunità per i circa 80 milioni di oriundi sparsi per il mondo ma anche per le tante località italiane che saranno interessate da iniziative per riflettere sulla storia dell'immigrazione. Vediamo nel servizio. Come una talea tagliata e spostata per dar vita a un nuovo esemplare così si può rappresentare l'esperienza di moltissimi emigrati italiani che lasciarono la propria casa per cercare una vita migliore ed è proprio con questa analogia che si promuoverà il turismo delle radici. Si chiama Italia ed è il nome del programma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che darà la possibilità agli antenati e emigrati italiani di conoscere le proprie origini attraverso viaggi e itinerari nei territori da cui erano partiti gli avi. A supporto della progettazione vari professionisti che potranno agevolare le ricerche genealogiche e le modalità del viaggio. Si stima che in tutto il mondo ci siano quasi 80 milioni dei cosiddetti oriundi innati all'estero con genitori o antenati italiani. Per loro potrebbe essere un'opportunità per riscoprire una parte di sé e della storia familiare. Il turismo delle radici in realtà è un viaggio è qualcosa di diverso da un'esperienza turistica normale è proprio un viaggio per riscoprire se stessi quindi si torna a conoscere i luoghi dei propri avi non tanto per la scoperta del luogo il fine è ritrovare se stessi quindi è un viaggio per ritrovare se stessi le proprie origini. Quest'anno in particolare è l'anno del turismo delle radici c'è una grande iniziativa messa in atto dal MAECI che è il Ministero degli Affari Esteri proprio per organizzare l'accoglienza sul territorio nazionale intorno a questo tema molto importante perché per la prima volta l'Italia si mette insieme con un progetto comune un unico brand una comunicazione coordinata una formazione degli operatori rivolta proprio a organizzare l'accoglienza di chi torna cosa importantissima perché queste persone che tornano non sono turisti normali è come se tornassero a casa e chi torna a casa normalmente vuole trovare un cammino acceso vuole trovare qualcuno che lo aspetta vuole trovare una situazione di calore ed è questo calore che stiamo cercando di creare con il turismo delle radici il progetto però riguarda anche i territori di partenza verranno infatti promossi luoghi e le attività più tradizionali per insaldare le relazioni con gli antenati degli emigrati e saranno proposte iniziative alle comunità locali per riflettere sulla storia e sulle conseguenze dell'emigrazione italiana una di queste a Chiavari ha riguardato i personaggi del Levante Ligure e il loro esodo c'è da pensare che diversi borghi paesi qui nell'entroterra Val Fontanambona che sono non esistono più non c'è più traccia ha visto due strani che stavano rovistando in casa sua attraverso il sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione e collegato al suo smartphone è accaduto ieri notte a un cittadino di Santolcese i carabinieri del nucleo radiomobile avvisati da lui sono arrivati tempestivamente in casa sorprendendo i due uomini ancora all'interno uno di loro ha tentato di colpire un carabiniere con un badile e poi è fuggito nel bosco il secondo è stato invece bloccato ed è stata quindi recuperata una parte della refurtiva l'uomo di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina resistenza pubblico ufficiale condotto nel carcere di Marassia a disposizione dell'autorità giudiziaria la programmazione adesso nella puntata di Missione Mondo in onda questa sera alle 21 su Telepace 1 canale 12 parleremo del Camerun e della missione che da diversi anni stanno portando avanti Francesca Pezzolo medica pediatra e Mauro Moretti radiologo al servizio della popolazione locale lo scorso 29 febbraio Francesca Mauro e Virginia Cella giovane infermiera in servizio in ASL 4 sono tornati nel paese africano per proseguire i loro progetti un'anticipazione nel servizio c'è una missionarietà diffusa che parte da un territorio e ne raggiunge un altro c'è chi contribuisce anche con una piccola offerta lasciata durante una delle raccolte effettuate in diocesi e chi materialmente fa in modo che questa risorsa contribuisca a sostenere la speranza di una popolazione alle prese con povertà malattie oggi quasi completamente scomparse nel mondo occidentale situazioni economiche decisamente inadeguate in Camerun Francesca Pezzolo medico pediatra e Mauro Moretti radiologo hanno portato questo germoglio di speranza con 5 euro si può salvare la vita di un bambino garantendogli le cure necessarie una cifra che le famiglie del luogo non possono permettersi essendo molti contadini o allevatori magari hanno le entrate mensili che difficilmente superano i 10 o i 20 euro quindi se mettiamo tutto in proporzione le cifre per loro sono molto elevate l'impegno di Francesca e Mauro è concentrato in questo momento sui bambini che hanno contratto una forma di tubercolosi addominale probabilmente contratta avendo consumato latte non pastorizzato prodotto da mucche affette da tubercolosi se individuata per tempo la malattia può essere curata dalla volta scorsa abbiamo proposto una campagna diciamo uno screening esteso a tutti i bambini di tutte le famiglie che hanno dei casi di malattia per trovare più bambini possibili la missione camerunense è rimasta da poco orfana di suor Maria Grazia religiosa che ha collaborato per molto tempo nel dispensario medico stroncata da un infarto anche su questo si concentra l'impegno di Francesca e Mauro ci stiamo armando per cercare di portare un elettrocardiogramma un apparecchio per fare l'elettrocardiogramma cercheremo di impostare un discorso diciamo plurivalente l'esperienza missionaria è stata condivisa per un breve periodo da Virginia Cella infermiera dell'ASL4 rimasta affascinata dalla realtà incontrata c'è l'amore infinito e la speranza che queste persone hanno e il fatto che hanno sempre le mani rivolte verso gli altri è così bello riuscire a entrarci in contatto ecco in occasione della settimana mondiale del glaucoma scusatemi l'Unione Italiana Cechi e Poverenti di Chiavari propone uno screening gratuito della vista il glaucoma è una malattia asintomatica quando ci si accorge di avere una difficoltà visiva ormai troppo tardi per poterla curare per questo la prevenzione riveste una grande importanza domani nella sede dell'Unione Cechi di Chiavari in via Sambuceti 22 e 3 è possibile effettuare il controllo della vista gratuitamente è necessario prenotarsi e lo si può fare chiamando il numero fisso 0185 30 76 50 adesso è arrivato il momento di vedere quali appuntamenti ci sono in programma per giovedì 14 marzo appuntamenti in agenda per giovedì 14 marzo proseguono gli appuntamenti organizzati dall'associazione futura con la collaborazione di Mig Tigullio alla scuola Dognocchi di Lavagna dalle 8.50 alle 9.50 Roberto Pettinaroli modera l'incontro dal titolo il gioco d'azzardo tra giovani e giovanissimi per riflettere sulle conseguenze causate dal gioco d'azzardo e la pericolosità dal punto di vista della salute alle ore 16 nella sala presidenziale della società economica di Chiavari Sergio Udano il professore dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere è presente e discute il volume Orme della Memoria nella letteratura latina tardo-antica sarà presente l'autore Giancarlo Mazzoli professore dell'Università di Pavia alle 16.30 nella sala Albino in piazza Ravenna Lavagna Francesco Brunetti presenta l'audiolibro realizzato da Sweet Tellers e basato su un lavoro sul testo Strane idee e sul volo di una piuma verranno messa a disposizione copie cartacee del lavoro ad offerta libera a favore del comitato per l'assistenza dei malati del Tiguglio al museo biblioteca dell'attore a Genova Riccardo Delle Piane presenterà il suo libro Rivelazioni alle ore 17 l'autore dialoga con Daniela Porro cofondatrice del club letterario genovese The Book Club nella chiesa di Sant'Andrea in piazza dei Consoli a Savona alle 17 l'autore del libro Counseling e accompagnamento spirituale ecologia integrale e armonia del sé padre Vittorio Soana dialogherà con Don Pier Francesco Corsi e Millie De Micheli il vescovo di Savona Noli Monsignor Calogero Marino porterà un saluto iniziale all'interno della società economica di Chiavari nella sala Radio Schiffini Nicola Pede modera il convegno lo scenario geopolitico e le crisi in corso nell'anno delle elezioni in America appuntamento alle 18 per discutere su incognite prospettive della politica internazionale per il 2024 l'evento è gratuito nuova serata di chimica e cucina a cena com alle ore 19 nel ristorante Dao Vittorio di Recco il professor Riccardo Carlini presenta una nuova conferenza in cui verrà approfondita la cucina preferita da Napoleone basata sulle sue origini italiane ed influenzata dalle sue conquiste al Teatro Carlo Felice di Genova va in scena al terzo galà della serata internazionale di Danza dalle 19.30 alle 20 si terrà una lezione aperta dei ballerini lo spettacolo inizierà alle 20.30 Una notizia di servizio adesso ci sono alcune chiusure programmate in A12 per questa notte parliamo dell'orario dalle 22 alle 6 appunto di mercoledì 13 marzo alle 6 di giovedì 14 marzo e sarà chiuto il casello di Recco in entrambe le direzioni sia in entrata che in uscita e il tratto tra Chiavari e Lavagna in direzione La Spezia in direzione Rosignano Con questo è tutto grazie per essere rimasti con noi fino alla fine vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione di Telepacina in diretta sarà alle 7.30 col Tg Rassegna Stampa e buon proseguimento e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti.